cosa? è di sciopero non ci adesso ho fatto buono Alexa! allora ragazzi vero? passi da me anche da me raro solo uno sta qua copiato dove andate? guardi dei posizionati corti fatto raro sono un altro io è morta Rex basta la Rex ha si ma sembra un altro qua però ma che è se è scolto qua? si scolto si scolto si è 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 scolto sta arrivando qualcuno con la Z-Fline eccolo no vabbè ma che è l'azzo più o che mio dio non è che c'è l'acqua che è la pista si è scolto si è scolto se non altro lo sopra aiuto perfetto io vi discuso questo è la MK Questa casetta quanta coppa c'è Io ho il flash, se vi ragionate è il flash Aspettiamo Alex, Alexio? Sì, va bene, flash va Sì, va bene, va bene, va bene Guarda ma se c'è la guarda, e con la guarda di che coleglie ha fatto La giù mezza ostro la campaghera магola guarda, ha scollinato Perraro Ma non lo vedo 6 stoppia Ecco l'altro laggiù E' un bada che cecchina Ma non mi hanno fatto il te lo vede corcettino che tocco più a sinistra è stato l'ho fatto che non è quello che c'è fino a questa parte dove ho fatto due peli drammatici mamma mia ho spogliato ora la safe vada prima che vi ho l'intocchio di questo questo è il cecchino che è questo cecchino c'è una giampa c'è la prima cosa vabbè c'è mancora un minuto ora c'è ancora un minuto e andiamo qua c'è prima rispetto a tre livello leveranno le mk penso che lo nerferanno un pochino veramente esagerato rispetto a prima cioè prima veramente se ti piavano te sorpresa e te laseravano te squagliavano non c'ha visto ho caputo qua non c'avevi speranza che te schegliafavano non c'avevi due speranze questo vende due pistole salterine ma quantomeno adesso c'hai quel minimo di tempo che riuscì un attimino a coprirte ma pure il cecchino non ti ammazzano no, infatti il cecchino che non ti ammazzano più ma credo anche se nel caso dovessi essere presa la strovvista comunque non si abborberizza, la stagione vecchia torte piavano delle sorprese che sbagliavano torte piavano delle sorprese che sbagliavano quale passi? di quanto si usavano? diciamo se ti viene in faccia magari comunque va a scioltare si però che devono vi addosso, cioè devono prendere proprio bene abbiamo la taglia dietro stanno arrestati i campi ecco li hanno arrestati, è ben allontana no, vada qua sotto stanno proprio qua secondo me qui hanno combattuto violentemente, hanno arrestato qua ma non so da più sono qua dove? meravissimi non lo so, hanno arrestato da... ma quant'è c'è qua? dove? è una maca a pau? maledissima te ecco lì uno sta qua uno sta qua oh, dobbiamo la taglia a pau, eccoli sono da serapoli stanno da sopra ce li ho messi per terra i due sopra finimori esploso me ne manca uno a farviare il sasso c'è un altro qua sotto è un appaccato gioco è un appaccato gioco è un appaccato gioco è un appaccato esploso mi resta uno è un appaccato uno la e la sopra non erano scoppiati ah c'era quello che c'è chi non la sopra aspetta Matteo scudini scudini stanno pure qua per terra da bene qualcuno lo fanno non lo sappiamo lascia un po più giù lo scudino avete preso il lutto di questi ecco qui c'era uno che non era scoppiato poi sta pure lo scudone prendiamo un po' d'archezza vanno qua sopra ma però qua sopra non è in safe non è in safe no non è in safe si si è in safe pochissimo ma è in safe quando i tredici si è mai mi campererei qua no 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 dammi un attimo in occhio ma la siccome non è niente troppo grossa quando sta gente e da dietro non c'è buono arrivati non sta per forza davanti infatti qui fino a non posso dire che volano infatti comunque la safe non è manco lontana no no sono attaccata voglio dire lì si allucca l'andreto l'ha morto io andreto stanno tutte queste costruzioni qua davanti devi a salire sopra così stanno pure dentro l'altra safe perché come se no ci tocca a cuore no poi sono due squadre sono due squadre non c'è nessuno riguardo andiamo qua davanti a queste costruzioni qua sì ma non andare sotto ma te rimaniamo sulle colline rimaniamo qua sopra qua no usiamo questa costruzione da dove siamo venuti prima no ma usiamo questa costruzione che c'è no ma perché dovemo sta sotto andammo se ne sopra sta colline qua se lo salivano sulla costruzione ormai stavano all'anno molto piccola la solita rega destra finiscono attivare la spalata no no ho vissi ma che ho sentito sparare gli enti lontano eccolo uno sta una stavola la mamma mia questo c'è la corona prenderò la corona evviva ti ha detto via del cannone mitico della malala mamma mia c'è un mk7 mitico leggendario sono bello mi ha col ma me ne ha lasciato uno un po' meglio del bianco dico ammassa maniera il brutto ho lasciato il brulla ma questo questo ci ha appucciato l'abbiamo sbriciolato porco giù da purello ma dove sta il blu non c'è più eh l'ho preso l'ho preso perché mi ha levato la corona ce l'hai io voglio lucicare è chi là su guarda è chi là ingaggio eh quello è bianco mazza quanto è più veloce a caricarlo altri là là oh vada ti è stato questionato vieni mi vedo però no no stanno già sotto sono scesi qua lo faccio cascare fallo cadere fallo cadere fallo cadere spalla sotto è bravo è caduto quello vai non mi hanno preso bianco gli ho fatto una cifra male c'è gente pure qua qua sopra no ti hai capito no loro stanno in tempo non sparò là sopra non perde no intanto lo stacco per qui trappato uno là sotto no la sei fregato a canassene tocca a scendere non scendiamo sotto rimaniamo alti non è sceso qua scendete qua che se andiamo sopra questa montagna girando da qua venite no ma te non ne avevamo non ne avevamo non ne avevamo ecco due guarda che cacchio mi ha fatto fallo non mi ha fatto ho stato sifragliato non mi ha fatto non mi ha fatto ma perché non mi ha fatto più ecco l'a1 ho visto l'a1 ho praticamente messo l'ho praticamente l'isolato ma io ho fatto ammazzarlo sono atterrato un aggiampato eccolo ho preso no non ti aggiano non ti aggiano no rega c'è 19 colpi ho stato sparato ho finito 2500 colpi c'avevo aspetta aspetta un attimo quando lì stanno no non sparare sopra spara sotto falli cadella ecco fatto dai falli cadella quelli cascano dai falli cadella un'atterrata 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 cadella finita tutte le armi tutte le munizioni ok 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 non voglio tranquillo quanto stanno in forza due rega questi sono appizzati a quello che marcettina da me ma fizzati stanno 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 in forza il cielo eccolo sopra 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 here ok un'atterrata 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 Grazie.